Torna il duopugliese squadrone, formato dal bitontino Valerio Vacca e Valerio Ardillo di Grumo Appula, con il nuovo e terzo singolo E-Trap Bro, che da ieri è presente su tutte le piattaforme digitali. Il brano è stato registrato, mixato e masterizzato a Bitonto presso il DCM Recording Studio di Domi Castellano, ma è stato pubblicato e distribuito con l'etichetta di Milano Top Records. L'importante è stata la collaborazione di Pierluigi Tucci, in arte Meister Beats, che ha prodotto la base. Si tratta di una combinazione di più generi che si sposano alla perfezione e che uniscono le anime dei due componenti del gruppo. Da un lato Valerio Ardillo, in arte Falco, tendente per la trap, dall'altro Valerio Vacca, in arte Reietto, con tendenze più indie. Il rap funge da collante tra i due e, come hanno raccontato i microfoni di Radio W0, questo singolo ha un significato molto particolare per loro, perché è stato pubblicato dopo la fase più critica della pandemia del coronavirus, che ha portato un po' di grigiore nelle vite di tutti. Noi puntiamo a portare un po' di colore con la nostra musica e con la nostra arte nella vita di tutti noi. Sì, che sia insomma una ripartenza per tutti, dalle attività all'arte, alla propria spiritualità. I ragazzi vogliono lanciare con il loro singolo un messaggio importante. Si rivolgono principalmente ad un pubblico giovanile, che conoscerà l'espressione gergale e trap bro e la userà genericamente per giustificare i propri modi di fare e di essere di fronte a chi non li comprende. Il brano invita a seguire la propria strada, anche a costo di sbagliare e di non piacere agli altri. L'alternativo è normale, quindi nessuno può stare a giudicare cosa è giusto e cosa è sbagliato. Siate voi stessi insomma. Esatto, questo è il messaggio che vorremmo veicolare a tutti. Assecondate la vostra arte, le vostre passioni e i vostri gusti, perché molto spesso chi ci consiglia, ci critica, è perché vuole solo speditarci. Il singolo anticipa l'uscita del primo EP del gruppo, previsto per settembre 2020. Insomma, Reietto e Falco volano alto come il drone della loro musica, che cerca di portare colore laddove incontra una realtà grigia. E' questo il significato per l'appunto del nome del loro duo Squadrone, che contiene anche un riferimento al loro lavoro di squadra, che permette ai ragazzi di continuare la loro carriera nel mondo della musica. Perciò, per restare sintonizzati con loro, ascoltare il nuovo singolo e aspettare il video ufficiale, basterà seguirli sul canale YouTube Squadrone Music, su Facebook Squadrone e su Instagram S4 Drone. izationarks My church and nossoji Mi ch갔alo Ok 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 Faccio la trap perché trambo Oh, oh, oh.